Altre 2.340 dosi di vaccino anti-Covid sono state infatti consegnate ai due ospedali Covid dell'Asla Toscana Sud-Est, Arezzo e Grosseto, le nuove forniture di fiale del vaccino Pfizer-BioNTech. Come nelle precedenti due spedizioni, sono quindi arrivate 390 fiale per ogni nosocomio, per un totale di 4.680 dosi vaccinali divise per le due province. Ad oggi le persone vaccinate nell'Aretino sono 5.678, 1.337 ospiti RSA e 4.341 operatori sanitari, 13.180 invece in tutta l'area vasta. Accanto alla somministrazione della prima dose prosegue poi anche la campagna di vaccinazione con la seconda. In tutta l'azienda sanitaria sono 7.325 coloro che hanno completato il percorso vaccinale 3.9 ad Arezzo. Di questi, 1.803 sono sempre ospiti delle case di riposo. Il vaccino Moderna invece, arrivato in 990 dosi, depositate all'ospedale Misericordia di Grosseto, verrà utilizzato per proseguire la vaccinazione degli operatori e dei volontari del servizio emergenza. Le somministrazioni riprenderanno quindi nei prossimi giorni. Grazie. Grazie.